Il consulente tecnico del comune di Termoli Donato Petrosino è indagato per truffa e falso. A darne notizia è stato il consigliere del Movimento 5 Stelle, Nicolino Di Michele, che ha fatto sapere che la Guardia di Finanza ha concluso le indagini e notificato l'avviso di garanzia. Tutto ruota intorno alla nomina da parte del sindaco Sbrocca, del professionista di Rodi Garganico, già segretario comunale con la legislatura di Vincenzo Greco, a consulente dell'amministrazione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Larino, sono partite dopo l'esposto presentato dai consiglieri di minoranza Nicola Di Michele, Antonio Di Brino, Michele Marone e Francesco Rinaldi, che avevano sollevato una serie di dubbi sull'affidamento dell'incarico dopo l'avviso di selezione pubblica a cui avevano risposto sei candidati. Al consulente viene contestata l'omessa dichiarazione di procedimenti penali in corso nell'autocertificazione della domanda di partecipazione al bando. Il consulente, dal canto suo, si difende spiegando che la pendenza penale omessa nella dichiarazione non costituisce ipotesi di reato grave contro la pubblica amministrazione e riguarda l'attività svolta proprio in comune a Termoli quando ricopriva l'incarico di segretario, procedimento di cui tra l'altro da oltre tre anni non ha più notizia. Secondo però il Movimento 5 Stelle il ruolo oggi di Donato Petrosino è legittimo. Come il Movimento 5 Stelle io personalmente disse al sindaco che lei sta facendo una cosa che va fuori da ogni tipo di norma dello Stato italiano e lui oltre a prendersi gioco di me disse lei non conosce la legge per cui si vada ad informare. Io me la sono tenuta però nel corso dell'anno ho ripetuto mozioni, interrogazioni e interpellanze, abbiamo scritto al prefetto e poi siamo arrivati a scrivere alla procura. Oggi ci rendiamo conto che quello che dicevamo noi era una sacrosanta verità, ciò significa che per un anno i cittadini termolesi hanno pagato 3.600 euro, un super consulente, ora super indagato, per un lavoro che non poteva fare. Questa cosa andrà avanti e lui sarà costretto anche a restituire i soldi. Nicola Di Michele ha annunciato che su questa faccenda nei prossimi giorni il Movimento chiederà ufficialmente le dimissioni del sindaco.